10 persone arrestate, 4 in carcere, 4 ai domiciliari, mentre per altre 2 di vieto di dimora. E questo l'esito dell'operazione condotta questa mattina dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretta dal capitano Luca Geminale, con il supporto del nucleo cinofili di Sarno e del settimo nucleo elicotteri di Ponte Gagnano, che hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 10 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti in abitazione, furte aggravati, detenzione e porto illegale di armi, munizione e ricettazione. Tutti i residenti ad Eboli hanno un'età compresa tra i 25 e i 44 anni. Sono finiti in carcere il 29enne Cristian Delisa, il 39enne Carmine Gaiangos, la 41enne Margherita Iula, il 36enne Nicola Iula, mentre agli arresti domiciliari il 44enne Damiano D'Amato, il 25enne Giuseppe Marotta, il 30enne Vito Galdi e la 30enne Tania Postiglione. In particolare sono stati raccolti elementi di colpevolezza per 5 rapine a mano armata consumate ai danni di esercizi commerciali di Eboli e Battipaglia tra il mese di dicembre del 2016 e il mese di gennaio 2017. Due furti di auto poi utilizzate per successive rapine, tre furti in abitazione commesse ad Eboli nel mese di febbraio scorso, 11 furti di beni custoditi all'interno di auto in sosta, consumati nei comuni di Eboli, Battipaglia e Capaccio, nonché quattro tentativi di furto all'interno di esercizi commerciali di Eboli nello scorso mese di febbraio. I dettagli dell'operazione sono stati spiegati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in procura alla presenza del procuratore capo Corrado Limbo. L'attività investigativa, che ha trovato il suo incipit nell'arresto in fragranza di reato di due indagati, è stata sviluppata attraverso attività tecniche ed ha consentito di accertare l'esistenza di un gruppo criminale con base operativa ad Eboli e con disponibilità di armi dedito alla quotidiana commissione di reati contro il patrimonio. Allora, l'indagine parte, come vi diceva prima la dottoressa Dalitto, nel dicembre del 2016. Stiamo parlando, non so se vi ricordate, di quelle rapine che si sono verificate sotto il periodo natalizio, anche, addirittura, alcune sono state un giorno, il giorno seguente. Chiaramente l'intuito investigativo nasce nel momento in cui vengono analizzate nel dettaglio le attività. L'importanza di cui parlava il procuratore del sistema di videosorveglianza nasce proprio per questi motivi, perché magari il singolo commerciante pensa che la videosorveglianza lascia il tempo che trova poi che vengono mascherati e quindi non si riconosce. Ma la videosorveglianza non serve solo a riconoscere il soggetto perché noi grazie soprattutto alle analisi dei sistemi di videosorveglianza siamo riusciti a raccogliere in un episodio, poi in un altro, poi in un altro tutti quei tasselli che poi messi insieme addirittura ci hanno consentito di ricostruire un'associazione. E non è semplice dimostrare che quel gruppo opera in maniera organizzata e associata. Quindi se siamo riusciti a farlo è perché siamo stati in grado, ripeto, grazie all'analisi fatta sui sistemi di videosorveglianza e tante altre cose, analisi tecniche, attività tecniche, tabulati, dicelle, intercettazioni, sono state sommarsi di circostanze e di attività che hanno poi portato ai risultati odier. Diciamo che in alcune situazioni ci sono stati particolari travestimenti utilizzati dei soggetti, non entro nel dettaglio poiché rispetto a quelle che oggi in ordinanza noi vediamo contestate come rapine o come furti ai soggetti. È chiaro che noi riteniamo che ce ne siano tante altre, però le attività per far sì che poi la responsabilità di questi soggetti sia riconducibile anche ad altri episodi sono ancora in corso. Diciamo che loro hanno, tra virgolette, anche ingenuamente dato fiducia alle conversazioni che tra di loro avevano. C'è stato qualche tentativo di utilizzare un riguaggio in codice, ma alla fine siamo abituati, quindi li conosciamo e sappiamo anche decifrare quello che dicono. Quindi è stato semplice da questo punto di vista. Siamo stati, ripeto, fortunati anche perché non sempre si ha la fortuna di cristallizzare ciò che avviene con le conversazioni. È stato, ripeto, sommarsi di tante cose che ci hanno poi consentito di operare come abbiamo operato. Grazie.